È tornato sulla terraferma Andrea Fantini, velista ferrarese, città di mare, d'accordo con la sua costa, con la sua riviera, che ha sfornato uno dei velisti più importanti di sempre nella nostra provincia, abbiamo già conosciuto in passato. Andrea, raccontaci quali sono state le tue ultime imprese, la tua ultima regata e quali sono i tuoi progetti futuri. Partiamo quindi da le cose appena fatte. Dunque, sono sbarcato da pochi mesi da uno dei monoscaffi più veloci al mondo, che era sponsorizzato da Maserati. È stato un progetto lanciato da Giovanni Soldini, che tutti noi conosciamo. Io a bordo di questa barca con Giovanni ho fatto quasi più di un giro del mondo, tra record oceanici, regate oceaniche ed eventi per gli sponsor. Sono stato imbarcato per quasi due anni, è stata un'esperienza fondamentale, bellissima, ho imparato un sacco. L'equipaggio era multietnico, quindi gente che veniva da professionisti un po' da tutto il mondo, quindi insomma un po' i migliori in ogni ruolo. Dopodiché, diciamo che comunque ho continuato a tenere ben focalizzato il mio progetto, che è quello di navigare in solitario, con l'obiettivo del Vendeglobe, che è il giro del mondo in solitario senza scalo e senza assistenza. Progetto pluriennale, per cui sto continuando a cercare gli sponsor, e che prevede comunque una serie di step intermedi con regate oceaniche e transatlantiche, sempre in solitario e in equipaggio ridotto. Diciamo che circa due settimane fa ho iniziato un po' questo progetto con la mia prima regata in solitario, che è stata la Roma per uno, per la quale ho avuto il supporto appunto della mia città, da Ferrara, in particolare dal Rotary, dal raggruppamento est del Rotary. Presidente Zanardi. Esatto, e che insomma diciamo che mi hanno dato una mano ad affrontare questa mia prima regata. Ho dovuto anche fare da relatore e raccontare le tue esperienze, no? In una serata a Rotary. Sì, sì, mi hanno invitato cortesemente appunto a parlare della mia esperienza, è piaciuta, devo dire che è piaciuta, insomma ha avuto un certo riscontro, e quindi niente, spero appunto di comunque trovare anche aiuti nella mia città. Ecco, ti fermo un attimo. Andrea, proprio questo, c'è una carriera come la tua molto difficile, molto impegnativa, onerosa, soprattutto impegnativa dal punto di vista economico. Tu non ti dai per vinto, persegui il tuo obiettivo con grande forza e tenacia, però hai, non chiamiamolo appello, però hai bisogno di aziende che credano in questo progetto. Esattamente, per fare quello che faccio io, per partecipare a questo circuito di regate oceaniche, ci vogliono degli sponsor, è inutile negarlo. Maserati, ad esempio. Per esempio Maserati, uno dei sponsor più grossi in Italia, comunque sono progetti che danno una grandissima visibilità alle aziende, quindi un grande ritorno di visibilità, di conseguenza un ritorno economico, e spero che piano piano in Italia le aziende si sensibilizzino sempre di più nei confronti di questo tipo di sport, che comunque è un bellissimo sport, una scuola di vita e una grande opportunità di comunicazione e di marketing per le aziende. Beh, qualcuno ha già credito in te, se no non faresti questo come professione. Parliamo invece di questa regata in solitaria al giro del mondo, il Vandeglobe, quella manifestazione che fra le più dure al mondo ti ha conquistato. Sì, insomma è la competizione sportiva più lunga e più dura al mondo, cioè non c'è nessuna competizione sportiva più lunga di questa, sono circa quattro mesi in mare, in solitario, è una regatta che parte dalla Francia e torna alla Francia circunnavigando il polo sud, fondamentalmente, in solitario, senza scalo, quindi non si ferma mai, senza assistenza. È una competizione durissima, però da un punto di vista, torniamo dal punto di vista della comunicazione, può dare tantissimo, quindi un ritorno agli sponsor enorme, perché è un evento mediatico ai massimi livelli, in Francia si parla, diciamo, degli stessi numeri della Coppa del mondo di calcio e comunque anche in Italia sta arrivando, quindi sono fiducioso e piano piano credo che si riuscirà a fare. Un'ultima battuta, una battuta veramente, Andrea, e tu garantisci a chi crede in questo progetto, ai tuoi sponsor, che la barca gli riporti, perché sappiamo che è molto rischioso. Sì, è rischioso, però insomma siamo professionisti, quindi diciamo c'è una grandissima preparazione a terra di queste regate, anzi il più del 50% riguarda appunto la preparazione prima di partire per la regata, quindi diciamo diminuiscono moltissimo le probabilità che capitano degli incidenti.